buongiorno e buon inizio del santo triduo pasquale con la celebrazione di questa sera nella lavanda dei piedi facciamo memoria dell'ultima cena di gesù e dell'istituzione dell'eucaristia il signore ci regala come doni preziosi il ministero dell'ordine presbiteri e diaconi chiamati a fare dell'eucaristia il centro della chiesa comunità convocata per amore e l'eucaristia stessa il secondo dono fondamentale e poi il comandamento stesso dell'amore che si rivela in gesù il signore come autentico dinamismo di cura premura e attenzione agli altri ai fratelli soprattutto alle fragilità le debolezze di chi ci sta accanto in questo giovedì normalmente si celebra anche la messa crismale segno di comunione di tutta la chiesa attorno al vescovo anche se questo non è possibile per i limiti imposti dalla pandemia noi ci sentiamo comunque chiesa ci sentiamo comunque di entrare insieme dentro la contemplazione del mistero di passione morte risurrezione di gesù il manzello che viene meditato e presentato nella santa eucaristia in cena domini è il capitolo 13 di giovanni dalla versetto 1 al 15 racconta appunto come gesù lava i piedi ai suoi discepoli e fra essi fra i dodici anche allo stesso giuda il traditore è fondamentale che sia tra loro colui che tradirà il signore perché l'amore l'amore sino alla fine con cui il signore ama davvero va a toccare anche coloro che mai noi pensiamo possano essere degni dell'amore di dio e in questa rivelazione del volto autentico del signore che è sempre sempre preoccupato soltanto di darci un'opportunità nuova per uscire dal peccato e riscoprire la vita vera in questo volto del padre che si rivela nel figlio e attraverso lo spirito santo che è amore noi siamo rivelati anche a noi stessi perché in questa santa sera di giovedì santo noi non contempliamo soltanto come dio sia veramente e quale sia davvero la sua natura profonda che amore concreto che si realizza davvero in gesti parole e scelte autentiche ma ci viene anche consegnata la verità di noi stessi il dono che riassume in fondo tutti quelli che riceviamo per grazia e la possibilità di diventare anche noi come dio stesso a questo siamo chiamati a imparare anche noi ad amare fino alla fine a farci anche noi servi a metterci costantemente ogni giorno nel cammino della diaconia lavare i piedi fratelli non è un optional non è neanche qualcosa che è relegato alla facoltà di pochi specialisti non è solamente dei preti dei diaconi o di coloro che frequentano più spesso la chiesa amare nel servizio concreto gratuito ed efficace è lo stile di ogni uomo e donna che voglia essere veramente se stesso è ciò che rende l'umanità piena e autentica è ciò che ci fa veramente figli e figlie di dio da gesù otteniamo l'esempio fate anche voi quello che ho fatto io a voi ma da gesù otteniamo soprattutto la forza la grazia l'intensità che ci rende abili a diventare come lui buona giornata buona celebrazione buon inizio del triduo pasquale